Allora Gianni Gianni Troppo Allora Finisce il compito di gol Finisce il compito di gol e adesso è gara vera Ragazzi In terza posizione ancora Si sta correndo Contro la migliora prestazione Italiano dell'Anche 339 per l'Italia Serve sull'applausi Un città Davanti abbiamo impegnato Issa Rocconi Dopo il passaggio Dottocente Grazie Grazie San Panora Pieni 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 Prende 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 6.65 questo salto, attenzione, questa è la gara ormai che va verso il chilometro, sono vissuto i due, i 30, i 28, un po' meno. Forza ragazzi, si va all'ultimo giro, solo applausi, guardate come ha rimontrato Michele Soltana che era caduto. La gara veramente è portata con l'ultima sfissante. 5.7! La gara veramente è portata con l'ultima sfissante. 200 metri ancora e stanno correndo veramente forte. In ritmo applausi per tutti, sia per risaltare il lungo, sia perché arriva a 3.25 adesso. Vai, 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 forza! Guardate che finale! 3.39.46 3.39.46 per vincere! Un bellissimo tempo! Tutti! Si è fermato, si!